35 artisti in rappresentanza di 13 nazioni e 4 sezioni speciali, ragazzi di bottega con 7 mosaicisti che hanno frequentato il laboratorio d'arte del maestro rosetano Bruno Zenobbio e poi la sezione VART, Total Contemporary Art, SML Spring Mosaic Lab con 200 piastrelle realizzate dagli alunni delle scuole medie di Roseto ed infine il consueto tributo a un mosaico per tornareccio e il menù ricchissimo dell'edizione 2016 di Oro Musiva che si potrà ammirare fino al 30 di ottobre nella bella cornice di Villa Paris Roseto degli Abruzzi. Musiva si trasforma anche in associazione per la formazione dei bimbi e appunto durante questa primavera è stata coinvolta tutta la primavera di Roseto degli Abruzzi in un corso di mosaico che ha permesso di produrre più di 200 piastrelle che oggi sono in mostra qui e che fanno compagnia alle opere di maestri di livello internazionale. Inoltre ogni martedì di fine mese alle ore 21 e 30 si terrà il martedì d'autore, una visita guidata alla mostra con l'intervento di un artista per conoscere da vicino l'arte espressiva del mosaico. Portare Musiva qui dopo che questa mostra è stata realizzata è fatta al Palazzo Medici Riccardi di Firenze, quindi una location importantissima. Non è solo una mostra come si vede ma è anche lavori che sono venuti fuori attraverso ragazzi della mia bottega.